Amici di Fanno TV, ben trovati. In questo approfondimento ci occupiamo ancora di politica. Nostro ospite in studio, il candidato Renato Claudio Minardi. Buonasera. Buonasera. Il 20 e il 21 di settembre i cittadini naturalmente sono chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio regionale delle Marche. Il candidato Renato Claudio Minardi è appunto candidato nelle liste del PD per la provincia di Pesaro Urbino per Maurizio Mangialardi presidente. Dunque, Renato Claudio Minardi nasce a Cecina nel 1960, laureato in giurisprudenza all'Università di Urbino e poi diventa un funzionario di poste italiane. Vive a Fanno con sua moglie Anna Maria e con sua figlia Claudia di 29 anni. Consigliere regionale uscente ha svolto il suo impegno politico con tanta passione e tanta professionalità. Tra l'altro con il ruolo di vicepresidente dell'Assemblea legislativa e componente della prima commissione permanente. La vita politica l'ha svolta davvero con grande passione e grande impegno. Sono stati degli ingredienti fondamentali per fargli maturare un'esperienza tale da poi riuscire a risolvere i problemi dei cittadini. La frase che meglio lo rappresenta è ci sono con te. Questo significa coerenza, impegno, serietà, gentilezza e costanza. Soprattutto il rispetto. Il personaggio a cui si ispira nella vita è Don Gabriele e naturalmente il suo motto. Quando guardi qualcuno negli occhi devi essere nella condizione di non dover mai abbassare lo sguardo. Minardi, in questo corposo report di mandato che riguarda la sua attività in regione dal 2015 al 2020 c'è una bellissima lettera sulla fiducia che lei scrive ai cittadini. Che cos'è per lei la fiducia? La fiducia è un dono prezioso, un dono che non deve mai essere deluso. Perché quando il cittadino ti dà fiducia, ti dà il voto nel momento elettorale, nel momento dell'appuntamento elettorale mette nelle tue mani la possibilità di poterlo rappresentare. E quindi c'è un rapporto che diventa diretto. E tu quando sei eletto nelle istituzioni non devi rappresentare soltanto chi ti ha votato ma devi sapere rappresentare tutta la comunità, anche coloro che non ti hanno dato il voto e il consenso. Però la fiducia è un bene prezioso, un bene che mai deve essere deluso perché nel momento in cui tu rappresenti i cittadini nelle istituzioni devi dare il massimo. Devi dare il massimo. Io ho lavorato in questi anni con determinazione, con caparbietà, con coerenza, con lealtà nei confronti dei cittadini, delle comunità, degli amministratori cercando di portare a casa tanti risultati. E quindi questo rapporto di fiducia non deve mai essere deluso perché quando sei nei luoghi dove si prendono le decisioni devi avere la competenza e la capacità di aver capito i problemi per prendere le decisioni giuste. Quindi stare in mezzo alla gente, stare in mezzo alla gente per capire i problemi e avere la capacità poi di trovare le giuste soluzioni nei luoghi e nei tavoli dove le decisioni vengono prese, vengono adottate. E quindi Don Gabriele, vorrei ricordare l'insegnamento di Don Gabriele Belacchi il parroco di San Lazzaro che ci ha lasciato alcuni mesi fa che ci diceva sempre quando guardi le persone negli occhi non devi mai essere nelle condizioni di dover abbassare lo sguardo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nella vita pubblica, privata, nella politica devi fare del tuo meglio, devi essere leale, devi essere serio non devi dire le bugie, devi comportarti bene questo è l'insegnamento che Don Gabriele mi ha dato e che ho cercato di mettere in atto sia nella vita pubblica che nella vita privata. Credo che sia un grande insegnamento anche per chi fa politica perché chi fa politica deve corrispondere alle esigenze dei cittadini con la lealtà, la fiducia proprio perché quella fiducia non deve mai essere delusa. Durante il suo mandato ha firmato leggi importanti per quanto riguarda la regione a partire dalla legge sulla promozione del libro e della lettura il diritto allo studio e poi naturalmente per diffondere la cultura delle legalità quindi si è battuto nelle leggi contro il bullismo il cyberbullismo per contrastare e prevenire il sexting, la cyberpedofilia e poi è stato istituito il Parlamento degli studenti c'è stata la riforma dell'ERDIS così come la legge sulla valorizzazione dei dialetti anche il riconoscimento della lingua dei segni l'IS e l'IST per non dimenticare la legge per garantire una buona vita fino all'ultimo e quindi anche favorevole alle cure palliative e poi garantire anche l'accesso sulle spiagge per disabili e ancora la legge per il sostegno delle città sostenibili quelle che piacciono ai bambini e anche agli adolescenti il potenziamento delle aree interne e ultima ma non meno importante questa mozione fondamentale sull'emergenza economica sono stati stanziati 210 milioni e sono state risorse importantissime per un sostegno concreto alle famiglie ai privati, agli imprenditori ecco io vorrei un approfondimento di più riguardo a questo argomento che in pratica ha dato il via in questa maniera ad una serie di aiuti che sono stati fondamentali Mentre stavamo gestendo l'emergenza sanitaria con le difficoltà del caso che abbiamo avuto non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo ho avuto l'intuizione che all'indomani del lockdown ci sarebbe stato bisogno di varare una manovra economica di dimensioni importanti le aziende erano chiuse gli operatori economici in difficoltà le persone in cassa integrazione quindi c'era bisogno di una cura shock di una cura importante ed è per questo che ho messo in campo una mozione che ho depositato nel pieno dell'emergenza sanitaria il 6 di aprile che chiedeva al Consiglio regionale quindi alla Giunta di stanziare importanti risorse proprio per raffrontare la possibile emergenza economica che sarebbe accaduta dopo il lockdown e chiedevo di fatto di riprogrammare i fondi europei di mettere in campo risorse regionali eventualmente anche di fare debito con la consapevolezza che quelle risorse da mettere in campo per aiutare gli imprenditori per aiutare le famiglie sarebbero state necessarie per garantire l'occupazione il lavoro per garantire la ripresa altrimenti quelle risorse poi nel tempo avremmo dovuto metterle per pagare la cassa integrazione e sarebbe sbagliato abbiamo varato una manovra la mia mozione è stata approvata alla fine di aprile il 29 di maggio abbiamo varato una manovra da 210 milioni una manovra di un'importanza straordinaria dal punto di vista dell'entità finanziaria che mette in campo risorse che hanno dato un aiuto alla cultura, al turismo, agli imprenditori ai trasporti, al sistema sanitario al volontariato a tutte le attività produttive anche per le famiglie che avevano gli studenti e l'università che hanno dovuto continuare a pagare gli affitti nonostante non fruissero degli alloggi ecco questa è una manovra importante, straordinaria che abbiamo voluto mettere in campo anche con una velocità di azione proprio molto forte quindi non facendo incartamenti eliminando tutta la burocrazia ma prevedendo le autocertificazioni poi chi ha fatto dichiarazioni false ne risponderà ma c'era bisogno di mettere nelle tasche dei marchigiani una cifra importante perché per esempio gli imprenditori mentre erano chiusi avevano i costi fissi da pagare gli affitti il personale che andava in cassa integrazione prima doveva fruire delle ferie quindi le ferie dovevano essere pagate ma le imprese non avevano gli introiti quindi abbiamo varato questa manovra importante 210 milioni 210 milioni che sono stati messi nelle tasche della comunità marchigiana nel giro di un mese e mezzo è stata una scelta importante straordinaria e in proporzione al bilancio è la manovra più importante che sia stata varata da una regione d'Italia io porto con orgoglio il fatto di averla fatta partire di averla stimolata ovviamente poi è stata approvata dal Consiglio regionale la Giunta gli ha dato applicazione quindi non è solo merito mio ma il merito di aver capito mentre c'era la gestione dell'emergenza sanitaria che all'indomani la crisi sarebbe scoppiata c'era bisogno di una cura shock proprio per evitare che la crisi sanitaria diventasse una crisi economica quindi credo che la manovra fatta sia una bella risposta a tutta la comunità marchigiana a partire da quella economica ed imprenditoriale Minardi un altro suo obiettivo riguarda il mondo dei giovani quindi il lavoro e la loro formazione professionale lei si è battuto tanto anche su questo fronte allora le chiedo nel suo programma elettorale che cosa c'è in previsione nel futuro di questi giovani ma sui giovani due temi ambiente e lavoro l'ambiente deve essere una nostra missione importante lo abbiamo fatto lo dobbiamo continuare a fare anche con maggiore determinazione perché il pianeta dove viviamo non è il nostro lo dobbiamo lasciare alle future generazioni lo dobbiamo lasciare ai giovani quindi non dobbiamo consumarlo non dobbiamo utilizzarlo ma non consumarlo quindi non dobbiamo consumare tutte le risorse le energie tutto ciò che il pianeta è in grado di offrirci lo dobbiamo lasciare alle future generazioni non in condizioni peggiori di come lo abbiamo trovato perché il pianeta non è il nostro quindi l'ambiente la tutela dell'ambiente la tutela del paesaggio è un bene su cui dobbiamo fare un investimento che riguarda noi il pianeta ma in particolare che guarda i giovani sui giovani dobbiamo fare un lavoro importante ancora incentivando gli investimenti per creare occasioni opportunità di lavoro nei cinque anni che ho passato in regione ho lavorato per la sicurezza molto per la sicurezza nei luoghi di lavoro sono riuscito a far approvare a modificare la legge far approvare il regolamento sulle cadute dall'alto mi sono impegnato in prima persona per difendere la sede Saipem di Fano la transizione da Oshan a Conad per tutelare i posti di lavoro abbiamo fatto un lavoro importante ora dobbiamo fare gli investimenti sul futuro ancora di più abbiamo di fronte la programmazione dei fondi europei 2021-2027 ed io sono convinto che questa programmazione debba avere un filone importante che riguardi le imprese e soprattutto quegli investimenti fatti dell'impresa per creare posti di lavoro per creare occupazione ma per creare posti di lavoro in particolare che guardino ai giovani ai giovani che hanno le lauree tecnologiche quelle lauree tecnologiche avanzate che riguardano in particolare l'informatica la digitalizzazione sono quei temi su cui i giovani sono preparati preparatissimi che sono un nuovo filone dell'economia e su questo bisogna creare condizioni di sviluppo e di investimento e quindi io sono convinto che sulle imprese che faranno investimenti riguardanti per esempio all'industria 4.0 all'economia circolare all'efficientamento energetico al risparmio energetico credo che su queste aziende la regione debba mettere risorse importanti proprio per stimolarle e fare in modo che queste aziende possano crescere possano creare lavoro e possano creare lavoro in particolare per i giovani poi ovviamente non dobbiamo abbandonare gli altri quelli che sono usciti dal mondo del lavoro i quarantenni i cinquantenni su questi bisogna programmare cosa che si sta facendo va incentivata la programmazione di corsi professionalizzanti per fare in modo che coloro che sono usciti dal mondo del lavoro possano ritrovare occasioni opportunità per mantenere le loro famiglie per continuare ad essere occupati quindi il lavoro è per quello che mi riguarda l'ho detto già anche sul tema della manovra dei 210 milioni il lavoro deve essere la mission numero uno su cui la regione deve essere impegnata perché il lavoro e occupazione sono la ricchezza di tutta la società Lei Minardi si è speso tanto in questi anni per portare risorse al territorio sia a Fano sia nelle aree interne quindi le chiedo quali progetti intende mettere in campo per potenziare ancora di più la nostra regione beh dopo la pandemia credo che ci sia la necessità di una riflessione profonda per ridisegnare le marche del 2030 le marche dei prossimi dieci anni c'è bisogno di fare questo perché la società ma anche il sistema economico è profondamente cambiato e su questo dobbiamo fare un grande lavoro noi abbiamo due grandi opportunità la programmazione dei fondi europei 2021-2027 che sono le risorse che dovremo utilizzare per cercare di sviluppare l'economia i posti di lavoro l'agricoltura il turismo ma anche il sociale ma anche la sanità e questi fondi dovranno essere mirati proprio per creare occasioni e opportunità di lavoro quindi per la crescita economica delle marche e poi non dimentichiamo che nella nostra regione arriveranno grazie al recovery fund che i sovranisti non volevano che i sovranisti hanno combattuto ma nella nostra regione arriveranno oltre 8 miliardi di euro nella nostra provincia circa 2 miliardi e un po' che saranno risorse che potranno essere destinate alla crescita allo sviluppo alle infrastrutture al potenziamento del sistema sanitario che oggi è vincolato da norme nazionali ecco con queste risorse dobbiamo creare la crescita della nostra comunità ma la crescita della nostra comunità passa per i filoni più importanti che sono l'economia il turismo lo sviluppo della cultura la sanità l'agricoltura il sociale ecco sono tutti i temi non li ho elencati tutti che dovranno crescere nei prossimi dieci anni grazie alla programmazione dei fondi europei e grazie anche alle risorse del recovery fund che per noi sono una grande opportunità di crescita per tutta la nostra comunità marchigiana che vogliamo che diventi sempre più competitiva oggi lo è ma vogliamo che cresca ancora di più per essere sempre più competitiva in Italia in Europa e anche nel mondo parliamo adesso di sanità grazie al protocollo di Fano su cui ha personalmente lavorato e che poi è stato promosso ed approvato dalla regione Marche il Santa Croce rimane aperto voglio sapere quali sono allora le condizioni sì è vero come hai detto tu ho lavorato personalmente al protocollo Fano che è stato sottoscritto il 5 di giugno del 2018 dal presidente Ceriscioli e dal sindaco Massimo Seri ci ho lavorato personalmente perché sono sempre stato convinto che il Santa Croce debba rimanere aperto anche dopo la costruzione del nuovo ospedale questa crede che sia la scelta più importante il Santa Croce continuerà a dare ai cittadini le stesse prestazioni che ha oggi fino a quando non ci sarà la nuova struttura quindi rimarrà intatto così com'è senza modifiche nei servizi che vengono erogati in questo momento al momento in cui ci sarà in funzione la nuova struttura al Santa Croce che rimarrà aperto ribadisco rimarrà aperto ci sarà il pronto soccorso con tutti i codici colore la medicina d'urgenza tutta la diagnostica per immagini e anche tutta la specialistica ambulatoriale il servizio dialisi il day hospital oncologico ed anche la lungodegenza e la riabilitazione quindi tutti quei servizi di cui c'è bisogno quotidianamente ecco le patologie saranno e le acuzie saranno spostate nella nuova struttura ma i servizi quotidiani di cui la gente ha bisogno ogni giorno li continueremo ad avere al Santa Croce non c'è solo una delibera fatta dalle due giunte della regione del Comune di Fano ma sono riuscito ad inserire il protocollo Fano all'interno del piano sanitario che è un livello molto più elevato perché viene approvato dal Consiglio regionale quindi abbiamo messo in cassaforte il protocollo Fano lo abbiamo messo in cassaforte dandogli una valenza e un valore maggiore quindi il protocollo Fano oggi è all'interno del piano sanitario quindi di fatto viene blindato come un'opportunità per la comunità sono riuscito a fare questo peraltro prendendolo addirittura a modello il protocollo Fano anche per la costruzione dei nuovi ospedali di Civitanova Macerata ed Ascoli San Benedetto quindi il protocollo Fano è diventato un punto di riferimento un faro anche per gli altri e per la costruzione dei nuovi ospedali nel resto della regione quindi il fatto che il Santa Croce rimanga aperto oggi e anche domani quando ci sarà la nuova struttura moderna credo che sia un'opportunità importante per tutta la comunità di Fano ma direi anche per tutta la comunità sia della Valata del Metauro che della Valata del Cesano Minardi perché i marchigiani dovrebbero scegliere Mangialardi perché Mangialardi è una persona che ha fatto il sindaco di Senigallia e lo ha fatto bene ha fatto il presidente dell'Anci e lo ha fatto bene come presidente dell'Anci sappiamo che ha saputo rappresentare tutti i sindaci di tutte le parti politiche quindi ha svolto bene questo ruolo possiamo considerarlo il sindaco dei sindaci la sua candidatura è emersa non dai partiti non da decisioni altrui ma è partita dalla sottoscrizione di oltre 130 sindaci sono quei sindaci che hanno avuto fiducia in lui quei sindaci che sanno che cosa significhi amministrare che cosa significhi essere a contatto con la gente tutti i giorni essere in prima linea e avere la capacità di risolvere i problemi Mangialardi non è stato deciso nei palazzi romani Mangialardi è stato deciso nelle Marche dalla nostra comunità e quindi è una persona in carne e ossa che sta in mezzo alla gente che si confronta con la gente e che sono sicuro saprà governare al meglio i processi della nostra regione con gli investimenti che la nostra regione dovrà fare proprio grazie alle risorse europee e anche alle risorse del recovery fund quindi il futuro delle Marche si decide nelle Marche non si decide a Roma Maurizio Mangialardi non ha come avversario il candidato del centrodestra Maurizio Mangialardi sta facendo la campagna elettorale ed ha come avversari i segretari dei partiti del centrodestra e quindi il centrodestra di fatto sta dimostrando la sua inconsistenza mettendo in campo una candidatura che non esiste quindi sono convinto che Maurizio Mangialardi riuscirà ad avere la fiducia di Marchigiani perché non solo è marchigiano perché è espressione dei marchigiani ma perché vuol far crescere la comunità marchigiana rendendola più forte più giusta e più competitiva tenendo conto delle esigenze che emergono proprio dalla comunità stessa e perché Minardi dovrebbero darle la preferenza? perché i cittadini hanno la possibilità di scegliere e nel momento in cui hanno la possibilità di scegliere possono scegliere una persona che in questi anni ha dimostrato di essere presente attento determinato alle esigenze e alle istanze del territorio abbiamo portato a casa tanti risultati ho dimostrato di essere un consigliere non solo della mia città ma di tutta la provincia ho cercato di affrontare i temi dalla costa alla collina alle aree interne portando risultati come la difesa della costa il completamento della variante di San Lorenzo in campo proviamo ad immaginare che cosa sarebbe ora se non fossero realizzate le scogliere a Sassonia oppure se non fosse completata la variante di San Lorenzo in campo che è un'opera che non riguarda solo i cittadini di San Lorenzo ma per tutta la vallata per tutti coloro che la percorrono oppure la riforma degli Ersu che abbiamo fatto negli anni passati che riguarda tutti gli studenti che frequentano l'università non solo di Urbino ma di tutte le marche quindi io credo che i cittadini abbiano la possibilità di scegliere una persona che ha avuto la possibilità in questi anni di ricoprire il ruolo del consigliere regionale e che ha dimostrato di essere attenta presente e che ha corrisposto alle istanze del territorio e quindi l'obiettivo qual è? L'appello che faccio qual è? Andiamo avanti insieme con orgoglio per continuare a crescere per potenziare i servizi per creare maggiori opportunità ai giovani per il bene della nostra provincia ci sono con te e per votarmi fai una croce sul simbolo del Partito Democratico e nella riga accanto scrivi Minardi Bene non abbiamo altro tempo a disposizione grazie Renato Claudio Minardi grazie a voi grazie a voi per averci seguito da casa continuate a restare su Fanno TV per seguire i nostri programmi Grazie a voi